Finiamo che il target di chi farà la domanda. Partirà il 20 febbraio la somministrazione dei vaccini agli over 80 marchigiani, circa 133.000 persone che al netto degli ospiti di case di riposo e RSA, per i quali si stanno completando le vaccinazioni nella prima fase, si riducono a 124.000 con la stima di un 70% che potrebbe richiedere di vaccinarsi. Ad annunciarlo è l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, il quale fa sapere che sarà possibile prenotarsi a partire dal 12 febbraio alle 14 in due modalità, ovvero tramite la piattaforma di poste italiane, tramite il link in sovraimpressione, oppure per chi non ha la possibilità di fare domanda online, sarà possibile contattare il numero verde 800 00 9966. All'atto della prenotazione, sia in via telematica che telefonica, l'utente conoscerà sede e orario in cui avverrà la somministrazione del vaccino. Il modello seguito sarà quello dello screening. I luoghi selezionati sono infatti i palazzetti dello sport e i luoghi all'aperto, dove i cittadini potranno recarsi in tutta sicurezza per ricevere i vaccini Pfizer o Moderna. Nella provincia pesarese le location scelte sono la Vitrifrigo Arena di Pesaro, il Codma di Fano ed il Palacarneroli di Urbino. Noi contiamo in questo modo in 20 giorni di somministrare la prima dose del vaccino Pfizer e Moderna a 120.000 utenti che lo potranno richiedere. Noi abbiamo fatto un piano fino al 5 marzo, per cui le abbiamo già immagazzinate queste dosi e se continuerà la consegna di questi vaccini saremo in grado naturalmente di proseguire e di completare il piano di vaccinazione in 20 giorni. Per le persone che non sono in grado di deambulare o per chi non può essere accompagnato a continuato Salta Martini, allestiremo nei prossimi giorni una piattaforma di prenotazione ed un numero di telefono specifici. In questo caso la vaccinazione sarà eseguita dall'Asur mediante i medici di medicina generale o dalle altre strutture territoriali dell'Adi. In giornata, poi aggiunto l'assessore regionale, è previsto anche l'arrivo di un carico di vaccini AstraZeneca. Il piano è somministrarli al personale docente e ata delle scuole, alle forze dell'ordine e dal personale dei servizi pubblici essenziali. Oggi pomeriggio è fissata una conferenza Stato-Regioni perché il piano, come avete avuto modo di constatare, è un piano che si muove con tutte le regioni italiane all'unisono, cioè non ci sono delle regioni che somministrano i vaccini a una categoria piuttosto che a un'altra.